Signor Bauer, della Serbia, prego. Egregio signor Chitti, egregi signori e signore, prima di tutto vorrei ringraziare Italia per la presidenza molto efficace. Il Parlamento serbo vuole dare un ringrazio speciale al Senato della Repubblica Italia e particolarmente al signor Chitti per approvazione della risoluzione che riguarda l'adesione della Serbia all'Unione Europea. Come tutti potete sapere, Serbia è completamente pronta di aprire capitolo 32 che riguarda il controllo finanziario. Per il popolo in Serbia sarebbe molto importante aprire, prima di 2015, un capitolo perché questo significa il comincio effettuale del processo di adesione. Il nostro Governo, anche il Parlamento, hanno lavorato con grande fatica per raggiungere questo termine. Cari colleghi dei Parlamenti europei, vi ringrazio tutti per il vostro appoggio al processo di adesione della Serbia. Signor Chitti, l'aspettiamo in bel grado fra due settimane e speriamo di raggiungere questo termine comune per noi in dicembre. Grazie.